Gli agenti della squadra mobile di Siracusa, con la collaborazione del nucleo artificieri della Questura di Catania e di personale della Polizia Scientifica Retusea, hanno arrestato un siracusano di 43 anni colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di esplosivi. Il 43enne, già conosciuto alle forze di polizia, deteneva illegalmente circa 80 kg di esplosivo di genere pirico, tra cui un manufatto artigianale, 32 accenditori elettrici e svariati interruttori con telecomando a più canali per l'attivazione a distanza. L'arrestato custodiva il materiale in un garage ubicato sotto una ludoteca che veniva utilizzato come magazzino della stessa e come luogo di deposito del materiale esplodente, che pertanto rappresentava un grave pericolo, anche in considerazione del fatto che l'esplosivo era ammassato in spazi angusti, aumentandone così la pericolosità. Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, l'esplosivo è stato sequestrato e affidato a personale del nucleo artificieri per la messa in sicurezza e la successiva distruzione.